Ciao amici, quando si parla di dimagrimento non è solo la pancia il nemico numero uno da far scendere, ci sono degli altri cattivoni del grasso? Per molte persone sì, spesso infatti anche cosce e fianchi sono punti critici tanto quanto la pancia. Sicuramente è essenziale fare esercizio fisico mirato, ma è molto importante anche fare attenzione all'alimentazione, come ripeto da oltre 25 anni. Tutti ripetono lo slogan siamo quello che mangiamo, ma poi non sappiamo resistere agli sgarri. Appunto, nel mio sistema per dimagrire senza dieta spiego come perdere peso seguendo una dieta equilibrata, ricca dei giusti nutrienti. Oggi ho selezionato per voi 8 cibi da evitare assolutamente per dimagrire cosce e fianchi. Se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine c'è un regalino per voi. E se volete dimagrire con le mie soluzioni 100% naturali comprovate dal successo di migliaia di miei clienti, potete seguire il link qui sotto in descrizione e scoprire il mio programma esclusivo per dimagrire senza dieta. 1. Zucchero raffinato. Che lo zucchero bianco faccia male ormai è un fatto scientifico. Per questo è il primo alimento da eliminare, contiene solo calorie vuote e nessun nutriente. Per dolcificare meglio usare zucchero di canna integrale, miele, stevia, sciroppo d'agave e zucchero di cocco. In descrizione vi metto il link a due prodotti di qualità che uso anche io, la stevia e lo zucchero di cocco, con il mio codice sconto per risparmiare su tutti i vostri acquisti. 2. Dolci. E ti ci metti anche tu a fare la punitiva? Ci sono dolci e dolci. Un conto sono i dolci light che potete preparare seguendo le mie ricettine che ho raccolto in questa comoda playlist. Un conto sono i dolci industriali, pieni di zucchero bianco, grassi poco sani e altri additivi. Io consiglio uno o due quadrotti di cioccolato fondente almeno al 70% e con dolcificanti naturali. Anche a colazione è meglio fare attenzione ai dolci. Trovate tante idee sfiziose e amiche della linea nel mio ebook colazioni light qui sotto. 3. Bibite e succhi di frutta zuccherati. Sono ipercalorici e gonfiano molto, vanno assolutamente eliminati. Ci sono diversi studi scientifici che hanno dimostrato i danni che creano, sia per la linea che per la salute. 4. Prodotti industriali. Cosa intendo? Tutte quelle merendine e snack confezionati dai nomi stravaganti e dai sapori artificiali sono spesso ipercalorici e ricchi di ingredienti nocivi per la salute come i conservanti, gli insaporitori e i grassi industriali. 5. Alcolici. Sapevate che gli alcolici sono essenzialmente zucchero? Bene, ora lo sapete. L'alcol è il nemico numero uno del dimagrimento, fonte di calorie che difficilmente vengono smaltite e contribuiscono al grasso localizzato. 6. Farina bianca. La farina bianca usata a livello industriale contiene poche fibre e quasi nessun nutriente, meglio prediligere quella integrale. 7. Carni grasse. Evitare carni grassi e insaccati a favore di carni bianche e magre. 8. Latticini e formaggi. Da limitare latte intero e latticini grassi come panna, burro, formaggi grassi, meglio il latte scremato o i latti vegetali e i formaggi stagionati a pasta dura. Bene amici, oggi abbiamo visto 8 cibi da evitare per dimagrire fianchi e cosce. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. In descrizione trovate anche il sondaggio sul dimagrimento per aiutarmi a fare contenuti sempre migliori che rispondono alle vostre esigenze. Ed ecco il regalino di oggi, la checklist degli 8 cibi da evitare, così potete averla sempre con voi e non rischiate di dimenticarla. Link in descrizione qui sotto. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.